video sponsorizzato da game over treviglio sito super accessoriato di console di nuova generazione e di tantissime carte da gioco fra cui pokemon a tantissimi prodotti e prezzi davvero molto convenienti quindi che aspetti faccio un salto i box break vintage hanno ancora motivo di esistere in questo periodo e soprattutto nel 2022 oggi vorrei fare un po di dissing no non è vero scherzando oggi però vorrei parlare dell'ultimo box break fatto a federic la settimana scorsa per quanto riguarda il box di expedition ciao ragazzi io sono nick bentornati sul mio canale mi raccomando prima di cominciare questo video sotto coi pollicioni ragazzi negli ultimi video è andata un pugni cerchiamo di arrivare ai 100 120 mi piace vi ringrazio per il grande sforzo e per il grande aiuto che mi dimostrate allora come avrete potuto capire dalla mia intro oggi vorrei parlare del box break expedition fatto da federic la settimana scorsa un box break davvero molto interessante che però non ha avuto tutto questo successo fra molte virgolette vi spiegherò cosa vuol dire per me molto successo perché l'ho messo fra le virgolette perché comunque ha avuto il suo seguito in maniera molto presente con la vendita dei pacchetti ma meno per quanto riguarda gli spettatori e live creato quindi in linea di massima parleremo del box break che è andato un po così così e prendo questo video anche per chiedervi una vostra opinione qui sotto nei commenti del box break di federic expedition allora come mai non funzionano più questi box break andrò a dirvi qualche mia motivazione però intanto vorrei fare una piccola introduzione innanzitutto partiamo dal fatto che io apprezzo moltissimo lo sforzo di federic nel fare questi box break ma non li fa in una maniera normale li fa in una maniera davvero molto articolata e speciale cerca sempre di mettere qualcosa di innovativo cerca sempre di alzare quella sticella per portare più seguito a questi box break alla fine dei conti se ci riflettiamo bene ragazzi ha affittato uno studio invita spesso ospiti di spessore del mondo di twitch e youtube in questo caso con expedition ha anche invitato gli acquirenti delle bustine per aprirli insieme a loro in diretta una cosa davvero molto bella comunque federic cerca sempre di innovare questi eventi con nuove idee quindi a parer mio meritava molto più seguito la live lui stesso comunque inizio live avrete notato che ha fatto una piccola intro in cui si prefissava degli obiettivi per quanto riguarda la live expedition infatti le ultime prima di queste non erano andate molto bene anche se alla fine dei conti erano andate molto meglio rispetto a questa quindi voleva comunque superarsi e superare soprattutto i vecchi box break però in questo caso purtroppo non c'è riuscito e approfondiremo tutti i punti che secondo me hanno portato ad una diciamo disfatta tra poco perché prima vorrei farvi ancora un'altra ulteriore introduzione parliamo un attimo del box e di quanto sono andati via i pacchetti allora i pacchetti all'incirca costavano 380 euro l'uno se si prendevano due pacchetti o più la cifra si abbassava di qualcosina infatti due pacchetti all'incirca costavano se non sbaglio 600 euro il buon federic ha invitato tutte le persone che hanno comprato a sbustare in diretta con loro la location era in uno studio in piemonte più precisamente a casale monferrato se non ho capito male e ha fatto all'incirca una media di 2500 barra 3500 spettatori allora nonostante Expedition sia un box un set davvero molto raro da trovare soprattutto in lingua italiana non è un set che crea più di tanto hype soprattutto per le carte che ha al suo interno alla fine dei conti le carte che valgono realmente tanto all'interno del set si contano su poche dita neanche in una mano su poche dita quindi nonostante all'interno ci sia la presenza comunque di Charizard e carte molto iconiche non è assortito moltissimo effetto nonostante i pacchetti siano stati comunque venduti tutti quindi un punto che secondo me non ha favorito troppo la visione di questo box break è proprio questo passiamo agli altri un'altra motivazione è che secondo me il box break è un format che comunque ha stufato un po' tutti sinceramente lo vedo anche da miei box break che comunque in confronto ai suoi non sono praticamente niente io porto box recenti come saprete ben tutti ma c'è stato un netto calo nelle views soprattutto su Twitch cioè meno persone sono invogliate a guardarli perché comunque li fanno praticamente tutti sia piccoli streamer che grandi streamer quindi è diventata una cosa troppo ripetitiva e i set alla fine dei conti sono sempre quelli per noi poveri barboni non per gente logicamente che ha più possibilità come Federic che ne fa veramente di belli poi mettiamoci anche in conto che in questo momento c'è un periodo abbastanza negativo per il brand il brand Pokémon per quanto riguarda le carte più che altro sta arrancando un attimino soprattutto per varie motivazioni che vi ho già spiegato in uno dei miei ultimi video vi lascio la scheda qui sopra se ve lo siete persi quindi questo mio scuglio di cose fa sì che comunque uno spettacolo simile sia relativamente poco cagato fra molte virgolette c'è anche da considerare il fatto ragazzi che nonostante le bustine siano state vendute tutte 380 euro per una bustina è davvero una cifra davvero altissima soldi che comunque li vale quel pacchetto perché sul mercato all'incirca i prezzi sono quelli soprattutto nel box ma comunque facendoci due conti in tasca con 380 euro si possono comprare davvero moltissime cose sealed anche se ultime new quindi roba attuale c'è comunque da considerare che comunque comprando un pacchetto simile si ha l'accesso allo spettacolo in prima fila infatti come vi dicevo prima chi ha comprato il pacchetto ha avuto anche l'occasione di sbustarselo in live e comunque tra l'altro tramite le storie di Federico ho anche visto che hanno offerto un servizio di pari virgolette catering nel senso che c'era del cibo c'era da bere c'era da mangiare tutto completamente offerto da Federico e quindi ha fatto veramente le cose in grande c'è anche da dire che il box che ha venduto Federico di Expedition l'ha venduto a un prezzo davvero regalato per fare questo spettacolo perché alla fine dei conti calcolando i pacchetti si arriva ad un totale di 13.000 e qualcosa e rotti euro quindi il box alla fine dei conti è stato venduto quella cifra e soprattutto per il fatto che è stato comunque venduto attraverso il sito di Federico Federico ci avrà pagato anche l'iva le tasse quindi il guadagno totale è meno dei 13.000 e rotti euro solitamente questi box venduti magari anche aum aum senza pagare tasse li pagate fra i 18 e i 20k soprattutto in lingua italiana quindi ha già fatto un gesto davvero molto bello con questa svendita del box e oltretutto ci ha fatto anche uno spettacolo quando vi ricapita di vedere sbustato un box del genere un altro punto a sfavore per quanto riguarda questi box break è che tante persone ancora pensano che si abbia comunque un ritorno economico comprando queste bustine nel senso che se si pulla qualcosa di figo si può riguadagnare magari che so io il doppio purtroppo ragazzi non è così e penso l'abbiano capito un po' tutti ormai con questi box break il guadagno è praticamente nudo non c'è mai il guadagno anzi si va per il 99% dei casi in perdita ci sarà quell'1% che ci guadagnerà realmente come il ragazzo che comunque ha trovato il charizard o lo che è gradato 9 o 10 vale la sua cifretta sicuramente più del pacchetto comprato però è un caso rarissimo che capita veramente poche volte in questi eventi nel 99% delle possibilità non si guadagna assolutamente nulla ci si perde soltanto soldi però ripeto dietro comunque c'è lo spettacolo dietro c'è la prima fila e tante altre cose che possono giustificare o comunque andare a pensare di comprare un pacchetto in confronto pensandoci bene si guadagna molto di più attraverso i box break che facciamo noi comunissimi streamer ovvero io, ovvero il Palace o tante altre persone che comunque tendono i pacchetti di espansione attuali ad un prezzo bassissimo che possono realmente farti guadagnare qualcosa nel senso che compro un pacchetto di astri lucenti a 4,50€, Cipullo, Lozard Hyper, Lozard Alt e ciò hai avuto un guadagno netto del B300% per dire, l'ho sparata così a caso però comunque hai un guadagno all'incirca di 200€ però sono sempre comunque casi sempre rari ma molto meno rispetto a questi box break vintage perché comunque hanno un catalogo di carte le espansioni nuove che è ampio e ci sono molte carte che valgono cosa che ho trovato di pessimo gusto durante la live perché la live comunque l'ho guardata quasi tutta tra l'ultima parte perché ero veramente cotto dopo 10 ore di lavoro è che molte persone in chat continuavano a scrivere cose simili a ci sono pochi spettatori sbustate un po' più veloce sbustate più velocemente aprite questi pacchetti ragazzi, queste cose sono veramente delle cose odiose punto prima perché c'è gente che in quel momento sta lavorando e c'è gente che si sta divertendo sbustando delle bustine che hanno comprato quindi il tempo che ci mettono sono un po' affari loro io non sono un falso c'è nel senso anch'io mi sono lamentato del fatto che fossero un po' lenti però non mi sono mai permesso di scriverlo nei commenti perché non è assolutamente giusto loro possono fare quello che voglio visto che l'evento è completamente loro anche scrivere ci sono pochi spettatori è davvero una cosa terribile e odiosa per qual motivo bisogna far notare alle persone che ci sono pochi spettatori e perché c'è uno standard per quanto riguarda gli spettatori secondo me è totalmente ingiusto stuzzicare in questa maniera chi sta lavorando e chi sta sbustando e i presentatori erano molto stizziti infatti ogni tanto hanno risposto sia Federic che il Masseo che non le ha mandate a dire ci mettiamo quanto cazzo vogliamo hai capito? ho 40 ore con questa anda esci e rientra più tardi quando è finita se non ti piace la nostra anda testa di cazzo comunque a parte la lentezza della live è stato veramente un piacere guardarsela perché abbiamo visto un pezzo di storia per quanto riguarda il mondo delle carte Pokémon e mi è piaciuto moltissimo anche vedere la gente in studio che si apriva i pacchetti dopo la cifra spesa tra cui Simonezza che ha perso tantissimo e soprattutto il nabbo delle carte io lo chiamo così perché è il suo nickname su Telegram che io voglio ringraziare qui in questo video perché ci ha stato andato in diretta e ti mando un grande abbraccio e scusami se non te l'ho riconosciuto subito durante la live ma non ti avevo mai visto letteralmente in viso quindi mi era un po' difficile comunque il tempo non è stato d'aiuto per quanto riguarda Federic che pensava di aumentare un po' l'hype facendo passare un po' di tempo dall'ultimo box break però non è letteralmente servito anzi ha avuto l'effetto contrario secondo me non ha scelto il periodo giusto per fare una cosa del genere se si aspetta il seguito secondo me sono eventi assolutamente da abbandonare quindi opinione personale ragazzi ultima e poi concludo il video ha realmente senso continuare questi tipi di eventi? a parer mio sì abbiamo l'occasione di vedere in diretta un intero box sbustato vintage quando vi ricapita e secondo me certamente vanno presi senza troppe aspettative sia in termini di spettatori sia in termini di guadagni vanno presi letteralmente come unicamente passione per le carte quindi se vi piacciono i box vintage se vi piace il brand pokemon sono comunque eventi che fanno per voi e io sinceramente sono molto contento di commentarli e di guardarli insieme a voi in live quando ci sono e quando c'è l'occasione ragazzi detto ciò detto tutto questo video è lunghissimo però mi andava di dirvi la mia più su questi eventi fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi box break e se ha senso portarli avanti come al solito prima di concludere vi invito a lasciare un bel like di supporto al canale passate a tutti i miei social trovate il link qui sotto in descrizione e passate a da che può mettere i video nel chilo 10 per il 10% di sconto su quasi tutti i prodotti dello store ragazzi io vi saluto vi mando un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao